Annuncio che ieri sera abbiamo depositato il ricorso contro il decreto di abbattimento di JJ4 appena siglato dal presidente della provincia di Trento. Confidiamo che la magistratura voglia graziare l'orsa e fermare l'ossessione di fugati nei confronti di tutti gli orsi del Trentino che vuole solo nascondere il fallimento della sua politica nel progetto di ripopolamento. JJ4 ha rinchiusa e non può nuocere a nessuno. La sua uccisione non avrebbe alcuna logica, non si applica la pena di morte ad un animale e non sarebbe giustificata dal punto di vista giuridico o scientifico. Noi non ci fermeremo.